buongiorno a tutti e benvenuti a questa sessione qui club dedicata domoz qui con voi francesco sorzini del tech support team di elove d'italia e oggi si parla si di domoz ma si parla in particolare di quelle che sono integrazioni con strumenti di terze parti quindi di fatto domoz permette di integrare degli strumenti ben noti a voi msp e può grazie a queste possibilità di integrazione portarvi ad avere magari un unico punto di accesso per la visione degli alers di domoz e di anche altri strumenti su un tool terzo perché no facendovi risparmiare un sacco di tempo andiamo oggi a vedere innanzitutto dove si trovano le integration e come seconda cosa andremo proprio a provare l'attivazione di un paio di integrazioni proprio from ground ed è per questo che mi sono portato già avanti e mi sono loggato comunque al mio casella one ora però partiamo da domoz io mi sono già loggato all'interno del nostro tenant e ho qua a disposizione un bel pulsantone che parla proprio di integration attenzione nulla da togliere diciamo a quelle integrazioni che andremo a vedere adesso però se non avete mai messo mano alla sezione integration automation in scripts vi consiglio di andare a controllare che cosa c'è qua dentro perché ci sono un sacco di cose utili ne ho parlato in un altro qui club vi consiglio magari di andarlo ripescare all'interno della nostra sezione preposta sul portale www.elevate.it però torniamo a software integration come vedete qua ci sono un sacco di voci relative a degli strumenti che tra virgolette nativamente possono essere imposti all'interno di domoz come strumenti targeting e quali che oggi voglio andare a vedere insieme a voi sono di fatto casella bms e it glue ed è per questo motivo che sto andando a prenderli brutalmente e a vediamo se riesco a togliere di mezzo perché configurazione fatta ok però adesso la voglio togliere di mezzo fare un bel clic su remove integration ripartiamo da zero spero di non romper nulla perché questo ovviamente non l'ho testato in precedenza e da che ci sono vado a togliere anche integrazione con casella bms scusatemi edit remove integration yes come vedete poi sono stato portato all'interno di un'altra sezione che è il contact channel ticketing system sì perché le integrazioni comunque lavorano via ipi e possono essere indirizzate a diverse tematiche quindi un centro di aggregazione di informazioni documenti potrebbe essere il mio it glue così come qualsiasi altro strumento qua presente compresi che so allo psa o connectwise psa o uno degli altri ma c'è ovviamente anche il contesto di ticketing system qui dentro ho ovviamente quelli che possono essere sia strumenti di gestione documentale come così come tipo sincro così come casella bms quindi andrò prima a mettere in piedi l'integrazione con it glue clic su più o meglio vado a rimettere in piedi l'integrazione con it glue connect to it glue e come vedete la cosa facile facile è attivare attraverso un ipi key ora dove vado a recuperare un ipi key all'interno del mio strumento tendenzialmente andrò a loggarmi all'interno del mio strumento e una volta qua dentro con credenziali amministrative avrò una sezione che si chiama né più né meno admin non ci interessa dare queste informazioni a casella e it glue support team e si possono creare l'ipi key con tanto di chiave io ne avevo già una dedicata a domots la vado a buttare nel cestino e ne creo un ex novo che con molta fantasia chiamerò domots QL come quicklab generate API key e andiamo a copiarla spudoratamente ovvio poi l'andrò a buttare giù connect allora l'integrazione in pratica incomincia già a dialogare ho la possibilità ora di prendere quelli che sono gli strumenti presenti dall'altro lato e linkarli a una qualsiasi delle mie organization in modo tale che avvenga poi il sync il sync può esserci in maniera diretta e addirittura può lavorare io li creo eh però se ci sono già dei precedenti presenti è possibile anche linkarli presenti presenti e può essere eh diciamo eh aggiornamento arriva da it glue inseriscimelo all'interno dei dei campi di domots o viceversa ora ritorno nuovamente in integration it glue e qui ho la possibilità di andare a introdurre ovviamente altri elementi ed altri domots agent ok non è nulla di così trascendentale però è una gran commodity perché ho la possibilità proprio di ottenere eh link collegare a degli items di it glue eh dei configuration items di it glue eh delle informazioni e viceversa ora non lo vedete perché eh c'è soltanto eh il eh diciamo il link ampere però c'è la possibilità una volta che avrete tutto operativo in funzione la vedrete c'è la possibilità proprio di selezionare se l'aggiornamento deve avvenire da domots ad it glue oppure da it glue ad omots è il cosiddetto bidirezionale ora permettetemi questo giro faccio un revoque in quanto non voglio più utilizzare queste ipa keep che vi ho mostrato spudoratamente e voglio andare semplicemente a rimuovere nuovamente quest'integrazione disable ma soprattutto andiamo a fare un remove ah ora che ha caricato un po' di roba vi posso far vedere dov'è che stava la sezione dedicata al matching dei field ok è qua che si può andare a definire che cosa deve essere aggiornato da un lato e anche dall'altro e di conseguenza di ritorno ora integration scusatemi manage integration remove integration yes remove integrazione è saltata altro strumento da integrare ma ripeto solo per un giro e farvi vedere come funziona il tutto è il PSA di caseia storico che è il BMS non so se qualcuno di voi col presente utilizza un altro strumento beh ma il giro tendenzialmente è lo stesso qua abbiamo da logarci su BMS abbiamo la possibilità poi di tornare in integration e vedere per filo e per segno cosa seguire per ottenere poi quell'integrazione perché vi dico per filo e per segno perché alla fine quando si va a fare un click sull'attivazione di nuovo elemento non so se l'avete visto prima o meno ma c'è anche un buon richiamo verso la user guide di domoz la user guide di domoz per la configurazione di integrazione vi guida proprio per filo e per segno in quello che deve essere eseguito per ottenere poi l'integrazione in questo caso tra l'altro non mi serve neanche andare ad attivare un qualche cosa che sia per BMS un API agisce tutto con delle utenze basilari quindi non vado ad attivare un API mi basta semplicemente indicare allo strumento URL il company name che nel mio caso è ancora ACAB ma vi ricordo noi siamo Elove d'Italia Formerly ACAB questa è parte del nostro bagaglio e ce lo portiamo presso questo nome che se BMS username vado a integrargli il mio username e la mia password che vado a richiamare dal mio password management BMS faccio un bel copia del nome utente che qua andrà rinnovato e poi magari ci vado anche a inserire una bella password in questo caso non è l'utenza associata al contesto caseia one se vi dovesse interessare questa cosa faccio un bel flag su automatic close ticket is possible e faccio un bel click su next e ora una volta che l'integrazione si è creata passando appunto da questo inserimento di un'utenza posso andare a decidere che livello si apriranno i ticket verso BMS quale priorità dare tipo di source questo è da preconfigurare a livello di BMS qua però comunque si vanno a caricare tutte le voci che sono pregresse all'interno dello strumento PSA open ticket status sarà un new closed sarà un completed perché vi ricordo che anche l'auto chiusura e ticket type andiamo a inserirgli un bel incident dai perché se arriva da Domotz deve essere comunque considerato come un incident clic su connect e BMS è connesso con quello che è il nostro Domotz ora manca un pezzo però manca un pezzo che è piuttosto importante cioè l'assegnazione dei targeting quindi se ben vedete siamo già atterrati in sezione alert settings perché questa qua è un'integrazione di tipologia targeting degli alerts e quindi mi devo spostare nel tab shared alerts qua ho un po' di shared alerts direi che posso andare a riprendere in considerazione uno di questi oppure crearlo ex novo ma lo creo ex novo faccio un bel create shared alert e gli posso dire dispositivi importanti target caseia BMS diamogli un colore rosso e quello che devo fare è una selezione delle voci che mi interessano dal menu laterale destro potrebbero anche ovviamente non essere tutte potrebbe anche essere soltanto un device goes down ok e come contact channel andrò a selezionare l'integration che ho appena introdotto quindi non la comune email anche se potrebbe esserci la comune email ma anche la comunicazione verso caseia BMS anche più target ma visto che l'ho chiamato dispositivi importanti target magari se ci metto anche una R meglio caseia BMS potrei anche togliere di mezzo su Arzini e lasciare caseia create basta questo? no perché io adesso ho disposto all'interno del mio domoz un target a chi assegno queste possibilità di monitoraggio globali per dispositivi importanti che mi potranno andare ad attivare un ticket in automatico beh posso andare in Explorer seleziono l'OV Italia sede legale è un dispositivo importante che io definisco importante oppure che ho già definito come importante già qua mi faccio una bel select tool e gli dico caro il mio sistema imponi per tutti questi dispositivi importanti questo share e advert così facendo se ho introdotto all'interno di noi qualsiasi di questi dispositivi importanti un alert ho la possibilità poi di andare a vedere quali tipologie di alert verranno impattati da questo strumento share e alert e se voglio aggiungere anche altro posso andare anche aggiungere altro e dirgli di andare a sparare le informazioni dove si deve magari aggiungendo un SNMP sensor aggiuntivo ma questa è un'altra storia allora spero di avervi fatto vedere più o meno quello che vi diciamo vi interessava finisco il giro con un is greater than numero a caso content channel che se BMS set con channel apply e posso andare anche a personalizzare nel caso quello che ho introdotto come share e alert all'interno del specifico site potevo farlo ovviamente anche all'interno del contesto inventory che è una visione globale e godermela anche da questo lato tutti gli importanti magari ho tutti quelli inerenti un filtro dinamico in base a necessità e poi gli vado a definire diciamo tutto quello che mi occorre definire per avere un monitoraggio adeguato con un target adeguato esula un po' diciamo dalla questione integrazione ma spero che sia interessante per voi ora torniamo un attimo a sezione integration così vi faccio nuovamente una carrellata di quello che è disponibile ma è tutto qui no non è tutto qui perché vi ricordo che una di queste integrazioni potrebbe anche essere la vostra domots offre la possibilità di esporre le sue api e di conseguenza anche se non c'è un integration nativa che magari poi arriverà in un futuro magari non nel vostro gestionale ma in altri lì di sì avrete la possibilità comunque di creare delle api key per il vostro strumento domots da poi andare a introdurre nel vostro strumento gestionale o dove più vi pare e piace allora ho finito la carrellata ragazzi se ci sono delle domande fatemi sapere scrivetemi direttamente in sezione domande ma va bene anche se sparate qualcosa in chat se non ci sono domande e ci saranno in futuro ricordatevi comunque che sono sempre disponibili a supporto chiocciola e loveid punto it ovviamente questo è valido soprattutto per chi guarderà questa registrazione in un secondo tempo e non per i presenti qui anche per i presenti qui ma principalmente per chi arriverà in un secondo tempo allora mi va benissimo anche se in sezione domande risposte andate a scrivere sì è tutto chiaro ci congediamo e alla prossima fatemi sapere poi se volete anche approfondire un'altra integration e ho la possibilità di farlo vi faccio vedere come funziona anche un'altra integration allora Oscar mi dice che è tutto ok e mi ringrazia e mi auguro un buon pomeriggio e ringrazio anche te Oscar ok vi do ancora un minutino però ho già ricevuto dei feed in merito al che è tutto chiaro interessante e vi ringrazio spero di essere stato abbastanza chiaro di non aver corso allora Patrick mi scrive questa è una domanda interessante ho visto che c'è anche la parte di OpenVPN come integrazione sì Patrick in realtà l'integrazione è nativa della serie è indicata come elemento integrazione è qua indicata ma ti riporta semplicemente alla pagina che gli descrive che lo strumento c'è già e che puoi accenderlo in tempo reale dalla sezione Remote Connection in VPNs di un tool che non devi andare troppo lontano per trovarlo che è proprio il portale di Domus io adesso vado in Elove d'Italia sede legale ti faccio vedere dov'è mi sposto in Remote Access tab Remote Access e guarda un po' qua c'è oltre che la possibilità di connessione diretta ai sistemi sfruttando delle porte specifiche cliccare su VPN e fare un bel clic su Open Tunnel l'agent che c'è all'interno della macchina quindi Domus Agent il Collector di Domus ha la possibilità di accendere in zero tempo un tunnel VPN sfruttando OpenVPN faccio vedere come funziona ma è veramente una cosa basilare ha già attivato e mi ha già scaricato il certificato da utilizzare per la connessione diretta è molto molto comodo per la cronaca si può utilizzare anche su uno smartphone ok niente spero di aver terminato positivamente questo giro di domande e risposte che è stato brevissimo alla fine della fiera però ripeto se vi occorre qualche chiarimento qualche informazione in più o volete giocare al lato vostro con delle vostre integrazioni e vi serve il nostro supporto scrivetemi in tutta tranquillità supporto chiocciolai.it e chiedeteli Francesco Sorzini ma tendenzialmente uno o qualsiasi dei miei colleghi in triage in quel momento vi potrà dare indicazioni di massima sulla funzionalità del tool bene mi congedo vi auguro un buon fine settimana per i presenti live ovviamente per chi guarderà questa registrazione in secondo tempo non lo so e alla prossima non lo so